La nostra frutta parla da sola Farinelli Fresco Market Un'altra patita pregunta a Pipo Giomi che allora è noi fit Quali materiale hai per pinta lo quadro? Adesso soprattutto olio Adesso mi sto dedicando alla pittura Quindi olio al 90% Qualcosa anche con colori acrilici Però più che altro tela e colori a olio Che sono quelli più brillanti, più belli Che rendono di più 40 anni a mese E hai qualche preferenza a tutti Adesso hai qualche idea del materiale Qualche preferenza che puoi lavorare Penso che Tampocchè Aspliciamo bene Il lavoro che fa Qualche materiale particolare Ma diciamo che Attualmente usando i colori a olio Uso i colori vivi Su una tela preparata In modo particolare Perché per rendere il risultato Devi fare un fondo in modo particolare Diciamo poi Poi i colori dipendono anche un po' dai soggetti Che fai Ah ecco Quindi anche in base ai soggetti Se lavori su grandi misure Si fa un tipo di lavoro Se invece lavori sul piccolo formato Allora lavori con pennelli più piccoli Con colori un po' diversi Quindi è molto variabile la scelta È compresa Grazie Pippo Tutto in torno Amo Daniela Che stavamo parlando di musica I nostri appuntamenti Diamo A Fiesa a mano Non ti esqueci o non ho cantato ora? A Fiesa a mano Semana in quina Ah ecco E allora Allora E allora E allora Pensiamo Arras pinturas di Pippo Giome Una patita preguntita E che corda di una cosa No 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 Cosa pensas De che salto trabalho Di tuo marito Oltre ad essere musicista Ti agrara con pinta E pensi a chi pintura Al cor che ti agrae di più delle altre. Sì, allora, di questa passione che ha il mio marito sono contentissima, perché la mia musica, per forza, aveva dovuto trascurare un po' la passione, però, come ho detto, la musica è un po' che ci siamo un po' in guerra, e allora Elsa sta proprio, veramente, esprimendo, sta tanto che fa, perché è una gran passione che ha sempre avuto da Giovanni, e ha fatto anche un po' di tempo, e sono quadri che, a me, magari a tutti, mi hanno spiegato un po' quando scendendo a casa, se non vengono i cipi, se no... Sono un po' in difficoltà, perché tutti si mandano a mano, anche sono le smorelle, anche Paolo, Madame, Anate, Paolo... Ah, tutta che è bella signora a spintare, no? Sì, morano, ma io dico, se non voglio sapere io, che mi dico di Ciappella, per cosa... ...tambi voi, altri, non da Ciappella? Eh, no, basta, ma magari... ...lo soggettano tutti, Sì, anche per cosa... ...parti di una passione che hai proprio per la Ghe, per la Sardegna, infatti lo squadro sono generalmente... ...sono asceso, una dame della Ghe e della Sardegna in generale. Sì, e abbiamo compreso. Daniela, io vorrei ringraziare Pippo, io ti ringraziare, che vi ho dato che c'è l'opportunità, e poi anche a Palazzo, segni di musica, e segni di nuova arte, come si era dei primi che Pippo pintava. Ringraziate a tutti! Allora, Musaltro, Rangrassien Musaltro, Giancarlo e Paolo, Rangrassien, l'editor Fausto Farinelli, Grazie a tutti! Grazie a tutti! Si vanno un mostro basso, ma neanche fingimenti al nome dei gusti. Sì, qualche quadro dei gusti sono fuggiti, che è salvato! Già va bene! Sì, sì! E hanno tutti il grito, una legume! Sì, si fuggi! Si fuggi, fuggi! Va bene! Grazie a tutti! Grazie! Ciao!